Musica Buonasera e bentrovati per quest'ultima edizione con l'informazione regionale di Tele Molise. Iniziamo il nostro telegiornale con la pagina amministrativa. Parliamo delle elezioni del 31 maggio per il rinnovo dei sindaci in 19 comuni molisani. Oggi a mezzogiorno sono scaduti i termini per presentare le liste. Sentiamo il servizio di Anna Maria Di Matteo. Sono scaduti a mezzogiorno di oggi i termini per la presentazione delle liste nei 19 comuni molisani chiamate alle urne il 31 maggio per il rinnovo dei sindaci e delle amministrazioni. A Bonefro Luigi Montagano scende in campo con la lista Progetto Bonefro impegno per il futuro. Gli altri candidati sindaco sono Claudia Lalli, sostenuta dalla lista Impegno Comune per Bonefro, Nicola Giovanni Montagano, appoggiato dalla lista Uniti per Bonefro. A Cerce Piccola sindaco uscente Michele Simiele, tre candidati alla carica di sindaco. Michele Nardacchione con la lista Insieme Tracciamo la strada. Alessandro Croce con la lista Prima di tutto Cerce Piccola. Maria Rosaria Nardola con la lista La Fonderia delle idee. A Casal Ciprano la sfida è tra l'uscente Liseo Castelli, sostenuto dalla lista Crescere insieme, Nicola Barbiero con la lista Insieme per il futuro, Monia Rossi con la lista Sosteniamo il futuro. A Lupare il sindaco uscente Pasqualino Marinelli si ricandida con la lista Insieme si cresce. Gli altri candidati sono Angelo Varriano, sostenuto dalla lista Contè per il paese, Salvatore Palombo con la lista Uniti per cambiare. A Montenero di Bisaccio il sindaco uscente Nicola Travaglini si ripropone con la lista Uniti per Montenero. Gli altri candidati sindaco Nicola Palombo con il PD, Nicola Dascanio con la lista Montenero vince, Renzo Magagnato con Movimento 5 Stelle. A Pietracatella retta dal commissario due le liste presentate, Pasquale Luciano candidato sindaco con la lista Pietracatella cambia e Antonio Tomassone candidato con la lista Insieme per Pietracatella. Si vota a Pietracupa dove il sindaco uscente Camillo Santilli. A Providenti il sindaco uscente Salvatore Fucito si ricandida, sostenuto dalla lista Bene Comune, l'altro candidato alla carica di Primo Cittadino e Silvia Lapenna con la lista Progetto Comune, e ricusate altre due liste che erano state presentate. Sei candidati invece a Roccavivara, Franco Antenucci, Mauro Tufilli, Francesco D'Angelo, Timoteo Di Girolamo, Stefano Triozzi, Luciano Torrieri. San Giuliano del Sannio, il sindaco uscente Angelo Codagnone si ripropone agli elettori con la lista Uniti per San Giuliano. L'altro candidato è Flaviano Santillo con la lista Il Coraggio di Rinascere. Quattro le liste presentate a San Polo Matese, sindaco uscente Tonino Spina. I candidati sindaco sono Armandino De Gidio con la lista San Polo nel cuore, Giuseppe Pompeo Santillo con la lista Rinnovamento, Davide Di Re sostenuto dalla lista Vogliamo Insieme e Cosimo Pedicini con la lista Un Voto Giusto. In provincia di Sernia sono otto i comuni chiamati alle urne ad Acquaviva di Sernia. Ben cinque i candidati alla carica di primo cittadino sono Lenio Petrocelli, Anastasio Petrocelli, Gerardo Del Vecchio, Franco Simone e Massimiliano Iemma. Sfida a sei a Rocca Sicura tra Fabio Milano, Mario Lombardi, Antonio Caldararo, Carmen Di Vito, Rocco Vizzaccaro, Roberto Marzano. A sesto campano tre candidati sindaco, Giuliana Zampilli, Peppe Caranci e Luigi Paolone. A Pozzilli candidato a Stefania Passareglia, Montenero Valcocchiara, Filippo Zucchegna. Due candidati a Chiauci, Carmine Di Vincenzo e Alberto D'Andrea. Infine appoggio Sannita, sfida tra Giuseppe Orlando e Nicola Di Filippo. Alla fine, dopo il primo tentativo andato a vuoto nel 2014 con la sua seconda offerta, l'IKF ce l'ha fatta, ha messo le mani sull'ITR. Tra pochi giorni ci dovrebbe essere il via libera dei tribunali di Milano e Isernia. Sentiamo tutti i particolari nel nostro servizio. L'ex-ITR ha dato il via libera all'acquisizione delle officine tessili italiane. A spuntarla è stata l'IKF SPA, Fondo di Investimento Milanese, che fa capo a Mario Galetti. La procedura comparativa tra le proposte pervenute si è conclusa e l'offerta presentata dalla società milanese è stata ritenuta come la migliore sul tavolo. L'IKF, che aveva già presentato un'offerta nel 2014, si è dunque aggiudicata la new co-sorta dalle ceneri dell'industria tessile di Pettoranello. Restano da definire i dettagli dei quali si discuterà nel corso di un vertice tra le parti, previsto nei prossimi giorni, e che condurrà la firma dei contratti definitivi. Su specifica richiesta da parte della società OTI e della stessa ITR, per ben due volte il fondo di investimento di cui Galetti è il principale azionista, aveva deciso di prorogare i termini della scadenza dell'offerta per consentire alle parti lo svolgimento di tutti gli adempimenti procedurali necessari. Non solo all'inizio del mese di aprile, l'IKF aveva anche rilanciato la propria offerta, sia sotto il profilo economico che sotto quello occupazionale. Il fondo di investimento aveva specificato di voler partire da subito con 40 unità lavorative. Dal punto di vista gestionale, la società punta un sistema innovativo, basato sull'affidamento della produzione a cooperative, formate da ex lavoratori ITR, quali sarti e stilisti, e a esternalizzare i servizi. La nuova gestione avrà solo il compito di dirigere e coordinare tutte le attività. Il KF aveva anche migliorato economicamente la prima offerta depositata, che prevedeva un affitto con opzione d'acquisto dell'azienda, per un canone annuo di 100.000 euro, con durata d'affitto di 36 mesi e con opzione d'acquisto azienda al prezzo di vendita di 750.000 euro. Inoltre si era detta disponibile, alternativamente, ad acquistare la merce del residuo magazzino a un prezzo complessivo di 3 milioni e mezzo di euro in 36 rate mensili, oppure a gestire la vendita di tutta o parte della merce per conto di ITR, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo proporzionale alle quantità vendute. Oggi in migliaia i fedeli delle diocesi di Sernia e Venafro che sono stati in udienza da Papa Francesco, il quale si è rivolto a loro alludendo scherzosamente a Celestino V, che si dimise tornando a fare l'eremita in Molise. Dal momento in cui sono entrato ho visto la vostra gioia, ha detto Francesco. Adesso capisco un po' perché Papa Celestino non si trovava bene a Roma ed è tornato da voi per la vostra gioia. Ha sottolineato tra gli applausi il Pontefice che già nella sua visita a Isernia lo scorso 5 luglio fu accolto con calore e affetto dalla comunità. Infine poi un appello per invitare i giovani di Abruzzo e Molise ad andare avanti con coraggio a vincere le sfide del momento, sostenendosi e aiutandosi l'un l'altro. I problemi si superano con la solidarietà, ha detto ancora Francesco, che ha apprezzato particolarmente il saluto che la diocesi gli ha fatto, intonando il canto Benvenuto Francesco, scritto in occasione della sua visita a Isernia. Ed è stato approvato dalla Giunta Comunale di Isernia il bilancio di previsione 2015. Il primo, come ha detto il sindaco con i conti in ordine, Brasiello ha colto anche l'occasione di rispondere all'accusa di lottizzazione lanciategli contro da Stefano Testa. Il servizio è di Enzo Di Gaetano. Stefano Testa, consigliere comunale di minoranza, ha accusato il sindaco di Isernia di aver trasformato Palazzo San Francesco in un poltronificio per la nomina di due vicepresidenti del Consiglio Comunale. Un'accusa che viene respinta da Brasiello, che dice che quegli incarichi sono a titolo gratuito. Io credo che tutti i comuni d'Italia hanno l'ufficio di presidenza. Tra l'altro non è stata meno proposta da me la cosa ma dal Presidente del Consiglio. Io l'ho semplicemente condivisa con due vicepresidenze, una alla maggioranza e una alla minoranza, proprio per garantire la massima condivisione di tutti gli argomenti. E peraltro sono cariche assolutamente gratuite, che non costano nulla alla collettività. È un modo come un altro per coinvolgere tutti e per coinvolgere di più i consiglieri comunali in una fase delicata per il Comune di Isernia, nella quale stiamo predisponendo un bilancio importante, perché questo è veramente il primo bilancio con i conti a posto che stiamo facendo. Per cui in questa ottica è opportuno un coinvolgimento maggiore, anche attraverso una suddivisione dei compiti un po' più precisa. Credo che avere le vicepresidenze per quanto riguarda il Consiglio Comunale sia un fatto importante. Per cui la vedo una cosa assolutamente strumentale, immaginare di istituire nuove poltrone. Non è questo il senso, il senso è quello del coinvolgimento. Lei parlava di un bilancio finalmente con i conti a posto, che vuol dire? Sono stati ripuliti questi conti, rimessi a posto? Allora, vuol dire questo. Noi oggi, oggi è 30, abbiamo approvato il bilancio in Giunta Comunale. Io vengo adesso dalla Giunta Comunale, è stata una maratona estenuante da stamattina alle 9, abbiamo finito 5 minuti fa. E posso dire che per la prima volta con la nuova contabilità, perché dal 1 gennaio 2015 tutti gli endi locali sono passati alla nuova contabilità, che non è cosa semplicissima, posso dire che finalmente il Comune di Sennia ha veramente i conti a posto. Questo che cosa significa? Che approvato il rendiconto 2014, che faremo nei prossimi giorni nel Consiglio Comunale, poi potremo programmare il preventivo 2015. E lì sarà importante, sarà importante una cosa, sarà importante prevedere un abbassamento delle tasse dei nostri concittadini. Noi un anno fa dovemmo fare una scelta esattamente opposta, cioè quella di aumentarle proprio per mettere a posto i conti. Lo abbiamo fatto, abbiamo messo a posto i conti, teniamo fede a quello che abbiamo detto e l'obiettivo è quello di abbassare le tasse. Ancora un incidente sul tangenziale di Campobasso e a distanza di pochi giorni, ancora una volta, nella galleria, nei pressi di Vazieri. Un tamponamento ha coinvolto due auto e un pullman, due le persone che sono rimaste ferite, un uomo e una donna trasportati in ospedale. Le loro condizioni non sono gravi. La tangenziale è stata provvisoriamente chiusa in direzione del capoluogo, all'altezza della galleria. Il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria, con indicazioni sul posto. È intervenuto il personale ANAS per ripristinare la circolazione. Ci sono delle novità per la Fondovalle Sangro, grazie allo Sblocca Italia. Infatti la Regione Abruzzo ha deciso di effettuare un intervento, atteso da anni nel tratto mancante, tra i comuni di Sant'Angelo del Pesco e Gamberale. Il nostro servizio. Dopo l'intervento tampone dell'ANAS, che ha permesso di eliminare i buche e dossi, arrivano altre importanti novità per la Fondovalle Sangro, grazie allo Sblocca Italia, non solo sono stati trovati i fondi per ammodernare e mettere definitivamente in sicurezza la superstrada, ma è stata individuata anche la soluzione tecnica per la realizzazione degli svincoli nel tratto fra Sant'Angelo del Pesco e Gamberale. Una novità rilevante, perché di fatto, dopo decenni di attesa, consentirebbe agli automobilisti di usufruire completamente della statale 652, ossia di quel collegamento diretto tra le aree interne abruzzese e molisane e il mare Adriatico, oltre che rotta privilegiata per le relazioni commerciali tra l'area industriale della Val di Sangro e la Campania. L'annuncio è stato dato dallo stesso presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, durante un incontro al quale hanno partecipato i sindaci dei comuni interessati, i rappresentanti dell'ente stradale e i presidenti delle province di Chietia e Sernia, Antonio Tamburrino e Luigi Brasiello, a sua volta accompagnato dal consigliere delegato alle infrastrutture Mike Matticoli. Si dovrebbe arrivare al dunque in tempi ragionevoli, visto che lo sblocca Italia impone di fare in fretta. Già a metà maggio ci sarà un nuovo incontro tra gli enti coinvolti per limare gli ultimi dettagli, in modo da presentarsi alla conferenza di servizi con tutte le carte in regola. L'ANAS dovrebbe convocarla alla fine del mese. Proprio durante questa riunione dovrebbe essere approvato il progetto definitivo, l'ultimo atto prima del via libera ai lavori. Nell'ambito delle attività di controllo i carabinieri del Comando Provinciale di Sernia hanno arrestato un pregiudicato per maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. L'uomo, 32 anni, di sesto campano, dopo aver aggredito la compagna, l'ha tenuta segregata in casa impedendole di uscire per alcune ore. La donna è riuscita comunque a contattare i carabinieri che sono intervenuti arrestando l'uomo che è in carcere ad Isernia. In casa aveva oggetti e materiale provenienti da furti. La refurtiva del valore di diverse migliaia di euro è stata sequestrata per poi essere restituita ai proprietari. E di 91 arresti, il bilancio dei controlli fatti ieri dai carabinieri di Roma in occasione del 1 maggio e del concertone in piazza San Giovanni. Tra gli arrestati per droga vi sono 40 stranieri per lo più di origine nord e centro africana e 20 italiani, alcuni dei quali in trasferta nella capitale per spacciare tutti di età compresa tra i 19 e i 50 anni, provenienti da diverse regioni, tra cui anche il Molise. Sono stati autorizzati quattro nuovi pozzi per la piattaforma Edison tra Termoli e Basto, il forum abruzzese per l'acqua lancia l'allarme per l'aumento rischio trivellazioni e invita la popolazione alla mobilitazione. Sentiamo il servizio di Emanuela Iorio. La piattaforma Rospo Mare della Edison che si trova a 11 miglia a largo tra Termoli e Basto presto potrebbe ampliarsi. Qualche giorno fa infatti i ministeri dell'ambiente e dei beni culturali hanno dato il via libera a quattro nuovi pozzi. A renderlo noto il forum abruzzese dei movimenti per l'acqua che invita i cittadini alla protesta e le istituzioni a fare ricorso entro 60 giorni per impugnare il decreto passera che ha rilanciato i progetti inizialmente bloccati dall'ex ministro Presti Giacomo. La decisione la dice lunga sulle intenzioni del governo Renzi di regalare ai petrolieri il futuro del mare adriatico a scapito degli interessi dei cittadini e dell'economia locale fanno notare i componenti del forum. A queste autorizzazioni ne seguiranno altre. Nelle ultime settimane il ministero dell'ambiente ha dato o si accinge a dare il proprio parere positivo a una decina di nuovi pozzi destinati alla ricerca o all'estrazione di petrolio tutti entro le 12 miglia. C'è la richiesta per un pozzo esplorativo a 7 chilometri dalla spiaggia di Ortona c'è poi il progetto di Ombrina Mare con 4-6 pozzi di estrazione a 6 chilometri dalla costa di fronte a San Vito Chietino infine Rospo Mare società Edison 3-4 nuovi pozzi di estrazione a 20 chilometri dalla costa tra Vasto e Termoli ecco perché il forum abruzzese invita la mobilitazione cercando di coinvolgere anche il vicino Molise un territorio che è stato definito sarà presto sotto assedio dal punto di vista delle trivelle stando infatti a uno studio effettuato il 28% del territorio regionale è stato già dato in concessione e tra permessi per l'estrazione o la ricerca di idrocarburi già accordati e istanze da valutare si sale al 65% secondo i dati del rapporto alcuni procedimenti riguardano aree molto grandi e che ricadono anche nei centri urbani di Isernia Campobasso e Termoli una battaglia comune per fermare le trivellazioni nel mare Adriatico così il senatore del Movimento 5 Stelle Gianluca Castaldi intervenuto a Termoli dove ha parlato anche del referendum previsto in Croazia sentiamo il servizio di Fabrizio Occhionero da vasto a Termoli il Movimento 5 Stelle scende in campo per protestare contro le trivellazioni in Adriatico una scelta non casuale quella del lungomare per ribadire una battaglia comune e coinvolgere i cittadini su un tema che hanno spiegato gli attivisti riguarda tutti all'iniziativa ha partecipato anche il senatore Gianluca Castaldi bisogna dirimere le trivellazioni questi non possono fare il comodo a loro in casa nostra in un mare chiuso dentro un mare altrettanto chiuso che il Mediterraneo come cittadini sappiamo ben poco è una battaglia comune di tutta la costa Adriatica sia dalla sponda italiana che in quella croata dove ci sono molte richieste di concessione non si guarda solo in Italia ma anche a quello che sta avvenendo in Croazia dove sono previsti nuovi investimenti in Croazia è previsto un referendum da qui la necessità di informare veramente la popolazione di cosa avviene quando si trivella come funziona i benefici se ci sono ma secondo me non ci sono abbiamo un esempio in Italia che è la Basilicata che doveva essere il Texas d'Europa la regione più povera d'Italia quindi i vantaggi per i cittadini sono parello zero Presenti tra gli altri consiglieri regionali Patrizia Manzo e Pietro Smargiassi e il consigliere al comune di Termoli Nicola Di Michele bisogna far cadere questo governo ha osservato Castaldi lo sblocca Italia ha limitato la forza delle associazioni locali dei comitati dei municipi e delle regioni perché aggiunto si passa direttamente dallo Stato e quindi è difficile intervenire abbiamo comunque come arma gli emendamenti gli emendamenti su qualsiasi decreto sarà possibile inserirli sai non è che puoi fare emendamenti che non c'entrano con il decreto però quando sarà possibile noi saremo pronti siamo pronti con le gambiente con Greenpeace con i no-trib che ci danno una mano ci sostengono e ci danno anche delle dritte per emendare i decreti cercando di mettere il bastone tra le ruote a questa trivellazione selvaggia e cambiamo argomento si sono svolti nel pomeriggio a Campobasso nella chiesa di Sant'Antonio di Padova i funerali di Antonio Molinari chiesa agremita per dare l'ultimo saluto a chi viene ricordato nel capoluogo come il presidente che portò la squadra di calcio in serie B serie in cui restò per cinque anni il parroco ha ricordato l'uomo l'imprenditore e il presidente della squadra la sua disponibilità il ricordo di una persona che ha fatto conoscere Campobasso fuori dai confini regionali tanti tifosi presenti in chiesa e fuori che si sono stretti al dolore della moglie Elisa e delle figlie c'erano anche alcuni dei calciatori che fecero parte del Campobasso degli anni d'oro tra cui Parpiglia e Di Risio e c'era la figlia del capitano Scorrano scomparso qualche anno fa ieri l'inaugurazione di Expo ci sarà anche il Neuromed a Milano l'istituto di ricerca di Pozzilli presenterà infatti i risultati di una serie di studi scientifici sulla dieta mediterranea raccolti in un quaderno che si propone di dare ad un pubblico il più vasto possibile consigli utili sulla corretta alimentazione sentiamo il servizio di Sergio Di Vincenzo all'Expo di Milano non poteva non esserci il Neuromed di Pozzilli gli studi scientifici condotti sulla dieta mediterranea in particolare quelli incentrati sul progetto Molisani hanno infatti portato alla pubblicazione di un quaderno che risponde ai quesiti basilari su questo tipo di alimentazione e sui corretti stili di vita concetti perfettamente in linea con il senso dell'esposizione universale tra i principali sostenitori di questo lavoro c'è Giovanni De Gaetano direttore del Dipartimento di Prevenzione il primo appuntamento è per domenica 10 maggio insieme a dei produttori e degli imprenditori molisani come la pasta la molisana e presenteremo dati del progetto molisani riguardanti la dieta mediterranea con proprio un contributo diretto locale del Molise a questa grande manifestazione internazionale noi abbiamo sempre pensato che un dato che non viene diffuso non è neanche un dato quindi è inutile fare ricerca se non la si spiega alla gente alla presentazione del volumetto ha partecipato anche Mario Mancini docente della Federico II di Napoli e collaboratore del professor Keyes e degli altri ricercatori americani che nell'ultimo dopoguerra scoprirono gli effetti benefici della dieta mediterranea giunse a Napoli incuriosito dalla notizia che aveva avuto che a Napoli nel dopoguerra c'era pochissimo infarto del miocardio e lui volle capire perché e dopo essere stato qualche settimana a Napoli presso l'istituto di fisiologia umana diretto dal professore Bergami che l'aveva invitato si rese conto che una delle condizioni più importanti per questo benessere della salute era il tipo di alimentazione che si faceva nella Campania nell'Italia meridionale Alla realizzazione del quaderno ha dato il proprio contributo anche la ricercatrice Maria Laura Bonaccio tra l'altro premiata di recente dalla Fondazione Veronesi per uno studio sul rapporto tra crisi economica e dieta mediterranea Sono sempre meno le persone che aderiscono a questo modello alimentare e noi sosteniamo pensiamo almeno i primi dati ci suggeriscono questo che ci sia un ruolo della crisi economica in questo abbandono progressivo della dieta mediterranea tant'è che abbiamo registrato un calo nell'adesione a questo modello a partire dal 2007 che è un po' l'anno critico per l'economia mondiale che probabilmente ha segnato una sorta di spartiacque nell'adesione alla dieta mediterranea in tanti in questi giorni si sono riversati in spiaggia sul litorale molisano oppure hanno preferito un giro tra i mercatini 300 i turisti salpati oggi per le isole Tremiti ieri erano stati 500 a Termoli sono in corso al porto turistico e i mercatini di primavera che proseguiranno fino a domani sera si svolgerà invece domani a Colle d'Anchise il consueto appuntamento con l'Upaillard Mai tradizionale manifestazione realizzata dai giovani del paese in collaborazione con l'amministrazione comunale storia tradizione e canti popolari nella festa nata per propriziare il nuovo raccolto l'evento avrà inizio dalle ore 10 del mattino in piazza Europa le esperienze di due ragazzi dislestici sono stati al centro di una giornata di studio sui disturbi dell'apprendimento organizzata a Guionesi e Larino sentiamo il servizio una giornata sulla dislessia per approfondire insieme agli studenti alle famiglie e le comunità del territorio un tema rilevante che richiede conoscenze e competenze disturbi connessi agli apprendimenti scolastici di base lettura scrittura e calcolo due gli eventi organizzati dalla sezione di campo basso dell'associazione dislessia e da Lions Club di Larino il primo alla scuola secondaria di Guglionesi dove si è svolto un incontro con Filippo e Vittoria due ragazzi dislessici e studenti universitari nonché autori di due libri intitolati Devo Solo Attrezzarmi Per me la dislessia mi ha aperto un mondo io sono dislessico discalculico e disortografico vengo da Firenze faccio parte dell'associazione Pillole di Parole sono uno dei fondatori dell'associazione Pillole di Parole di Firenze che è un'associazione che lavora sul territorio fiorentino e aiuta i ragazzi con DSA perché noi stessi abbiamo questi disturbi specifici dell'apprendimento a superare le loro difficoltà i disturbi specifici dell'apprendimento visti dunque non solo come un ostacolo ma anche come un valore aggiunto è chiaro che è fondamentale il ruolo della scuola nel senso che avere un buon docente aiuta però non si può essere sempre fortunati e nel caso quindi può capitare di trovare un docente poco preparato o meno avere un amico o un'amica con cui supportarsi è fondamentale in più il ruolo della famiglia è basilare e quindi è importante che le persone più care i genitori in primis accettino e comprendano esattamente cosa sia un disturbo specifico dell'apprendimento Filippo e Vittoria sono stati protagonisti anche dell'incontro che si è svolto al Palazzo Ducale di Larino sono intervenuti tra gli altri Angela Vitiello presidente del Lions Club e il sindaco Vincenzo Notarangelo l'evento è stato moderato dalla responsabile dell'AIDE referente per il libro parlato Lions Graziella Vizzarri ha un senso molto importante sensibilizzare tutti le famiglie l'opinione pubblica le istituzioni e i giovani i ragazzi coloro che si vivono questa caratteristica e che insieme a loro frequenta appunto la scuola In chiusura l'appello per una cagnolina che si è smarrita in Contrada Selva Campodipietra la vediamo in foto è di taglia piccola indossa un collare viola con disegni neri chiunque ne abbia notizie o l'abbia trovata può contattare naturalmente la nostra redazione e con questa notizia chiudiamo l'ultimo appuntamento con l'informazione regionale di Telemolise grazie per averci seguito vi auguro una buonanotte